ciao amici come ogni anno la stagione fredda porta con sé tra i nemici della linea la vita sedentaria i dolci consolatori e i pranzi di natale non me ne parlare io scapperei in antartide non ce n'è bisogno basta seguire questi sette consigli accelera metabolismo se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 tè verde il tè verde è un potente alleato del dimagrimento perché contiene catechine dei fenoli antiossidanti che stimolano il metabolismo 2 idratazione bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno serve a idratarci in modo ottimale senza la giusta quantità di acqua il metabolismo non funziona e nemmeno il detox 3 ormoni ma non eri tutta naturale tu cosa hai capito soprattutto per noi donne gli ormoni giocano un ruolo chiave nel dimagrimento ma anche nei maschietti l'equilibrio ormonale controlla il metabolismo oggi poi sempre più persone soffrono di problemi alla tiroide o al pancreas spesso ignorati quindi il mio consiglio è di fare i controlli di routine per essere sicuri che sia tutto ok 4 grassi buoni i grassi buoni ricchi di omega 3 sono essenziali per dimagrire il grasso che sgrassa esatto servono al metabolismo cellulare quindi alla capacità di convertire l'adipe in energia i cibi migliori sono salmone avocado olio extravergine di oliva frutta secca e semi 5 muscoli senza fare sport non si può certo dimagrire meno che mai tenere il metabolismo attivo e pimpante non serve strafare bastano da 30 a 45 minuti di attività al giorno secondo la university of maryland un corpo tonico e attivo consuma più calorie anche a riposo 6 freddo oggi simo ci prendi in giro no parola di scienza diversi studi hanno dimostrato che esporsi al freddo aumenta le calorie bruciate e l'inverno è l'occasione giusta per farlo con passeggiate e attività fisica all'aria aperta 7 intestino pulito io lo dico da 25 anni se l'intestino non è pulito e sgombro da tossine il corpo ne risente e di sicuro non si riesce a dimagrire per aiutarlo potete preparare il kefir con la ricetta di questo mio video se invece siete di milano potete venire a fare l'idro colon presso lo spazio solo salute dove faccio le consulenze di naturopatia e per seguire tutti i miei video iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e dimagrisci diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri e the book per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao